Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di IcaroTG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Avviso di conclusione e indagini per le persone implicate nell'operazione Mirror dei Carabinieri, la vicenda di un albergo riminese mostra l'inquietante disinvoltura con cui la malavita entra nel settore turistico. Scatta l'aumento dell'IVA. Secondo categorie ed associazioni dei consumatori peserà sulle famiglie a basso reddito e ridurrà i consumi, rischi anche per le cooperative. Il calo dei passeggeri resta consistente ma finalmente l'aeroporto Fellini può registrare un segno più nel 2013. In agosto crescita del 4% sui passeggeri stranieri. Alessandro Gianni è il nuovo direttore generale del Rimini, la nomina nel CDA di ieri che ha confermato le altre cariche dirigenziali, multato il Monza per i cori contro Falle. Su ordine emesso dalla DDA di Bologna, i carabinieri hanno notificato la conclusione di indagini ai soggetti implicati nell'inchiesta Mirror, che portò a 20 arresti di affiliati alla Camorra per associazione delinquere di stampo mafioso e alla chiusura dei nightclub La Perla e Lady Godiva. Furono sequestrati beni per oltre 5 milioni e a chiusura delle indagini emerge il caso di un altro hotel riminese comprato dalla Camorra. Abbiamo preso l'albergo, c'è anche la piscina, venite qui per le vacanze. L'albergo in questione è l'hotel Mutacita di Viale Lugano a Rimini. A pronunciare queste parole sono Giuseppe Ripoli e Massimiliano Romagnello, due camorristi che lo hanno preso in gestione, probabilmente dietro estorsione, e che invitano gli amici malavitosi a trascorrere qui le vacanze. Il vecchio gestore, trovandosi in difficoltà e avendo un debito di 20 mila euro con Ripoli di Romagnello, glielo cede il 18 aprile 2013. Trovano una testa di legno, Alfredo Forte, un pizzaiolo di caserta, da molti anni residente a Rimini, che è indagato per intestazione fitizia di beni. A capo dell'organizzazione sgominata dall'operazione Mirror c'era Mario Cavaliere di Nettuno, detto zio Mario, che disponeva di un pericoloso team di picchiatori pluripregiudicati, tra cui Giuseppe Ripoli appunto, già coindagato nell'indagine Vulcano. Rispetto all'insieme dell'operazione Mirror messa a segno dai carabinieri di Rimini il 29 aprile scorso, la vicenda dell'albergo Mutacita era rimasta in secondo piano, ma serve a rendersi conto di quanto l'azione della Camorra fosse precisa e puntuale nella perlustrazione della riviera romagnola, per accaparrarsi sempre più attività da inglobare nel patrimonio della malavita. Erano dei pregiudicati piuttosto attivi, noi li abbiamo intercettati anche fino all'ultimo tutto il mese di aprile, quindi noi li arrestiamo il 29 di aprile esattamente, ma erano molto interessati ad acquisire società, attività commerciali, pizzerie, qualunque cosa che potesse in qualche modo avere un interesse economico per loro e per poter in qualche modo riciclare il denaro e metterlo in movimento. Quindi questi erano in continua osservazione del movimento e fermento economico riminese nel cerca del pesce buono da poter cogliere per il loro interesse. Parliamo di un'altra operazione che è balzata, le cronache con grande risalto. Ieri il Presidente della provincia di Rimini, Stefano Vitali, ha firmato la dichiarazione di costituzione di parte civile dell'ente nel procedimento Varano presso la sezione penale del Tribunale di Forlì. Dall'inchiesta della Procura forlivese emerge l'accusa di gravi violazioni fiscali fino al riciclaggio anche nei confronti di persone residenti nel riminese. La dichiarazione di costituzione di parte civile sarà depositata questa settimana all'ufficio del giudice per l'udienza preliminare. Con questo atto la provincia adempia uno dei suoi obblighi statutari, vale a dire la salvaguardia degli interessi della comunità. Si legge nella dichiarazione di costituzione i reati patrimoniali contro l'economia offendono la corretta evoluzione economica delle comunità con ricadute dirette e indirette sulle risorse a disposizione degli enti locali, un danno devastante cui si aggiunge un perverso effetto collaterale. Chi evade il fisco dichiarando redditi sensibilmente inferiori finisce tra le categorie più fragili socialmente e dunque tutelate dallo Stato. In caso di accertata responsabilità da parte degli imputati, conclude Vitali, anche il risarcimento di un solo euro alla parte civile significherebbe l'attesa svolta della connessione tra evasione fiscale e sottrazione di risorse alle comunità di riferimento. È stato condannato a sei anni e due mesi per tentato omicidio il 46enne che la notte di Capodanno armato di coltello aveva seminato il panico tra San Giuliano e il centro storico di Rimini. Col rito abbreviato appunto l'uomo resta ai domiciliari, il 46enne era stato arrestato la notte stessa di Capodanno dopo che aveva aggredito un 21enne che passava in scooter e un agente della questura. Un foggiano 59enne è stato denunciato dalla polizia di Rimini per rapina in seguito alla violenta risa del 14 luglio in piazza Ferrari che aveva già portato alla denuncia di altre tre persone. Ad avere la peggio fu un cittadino marocchino picchiato con un bastone e derubato appunto del portafogli. Il foggiano era già noto alle forze dell'ordine e lavorava anche come parcheggiatore abusivo all'ospedale. L'episodio, ricorda la questura di Rimini, fu l'apice di una serie di avvenimenti per i quali i residenti della zona di piazza Ferrari inviarono un esposto alle autorità cittadine e a seguito del quale appunto furono intensificati i controlli in zona servizi tuttora in atto. Lasciamo la cronaca per parlare dell'IVA, una stangata da almeno 200 euro a famiglia. Le associazioni di categoria dei commercianti e quelle dei consumatori riminesi si scagliano contro l'aumento. Un provvedimento, dicono, che avrà un effetto recessivo sull'economia. Dopo quello 2011, dal 20 al 21%, scatta oggi un nuovo aumento dell'IVA che arriva al 22%. Tra i beni interessati ci sono radio, computer, vino, birra, tv, ma anche scarpe, mobili e soprattutto benzina. L'aumento dell'IVA graverà in questo caso maggiormente, intanto va detto subito, sulle famiglie a basso reddito ed avrà un'incidenza, abbiamo calcolato, che va dai 100 ai 200 euro. Qualcuno dice anche 350 euro a famiglia. Quindi avrà un effetto, come sempre, recessivo perché tende a comprimere ancora di più i consumi. In questo momento di crisi economica è l'ultima cosa che dovrebbe capitare. Oltretutto, questo aumento dell'IVA si va ad aggiungere agli aumenti delle tariffe, per cui quello che era stato, diciamo, tra virgolette, il centro di una detassazione, tanto decantata quanto la cancellazione dell'IMU, in realtà è ampiamente recuperato con l'aumento delle tariffe e con l'aumento dell'IVA. Tempi sempre più difficili per le famiglie, anche se, spiega Pari, in un primo momento i commercianti potrebbero sacrificare parte degli incassi per evitare rincari repentini. Nel breve periodo i commercianti, come sempre, vista anche la situazione economica, cercheranno di contenere il più possibile i prezzi. Però è evidente che l'aumento dell'IVA avrà nel medio e lungo periodo un effetto di trascinamento anche degli altri prezzi. Perché se noi cominciamo con i trasporti, con il costo del carburante, l'energia, questi sono prodotti che riguardano tutta la filiera della produzione. Un effetto trascinamento che potrebbe toccare anche quei beni di prima necessità con aliquota ridotta e quindi non soggetti all'aumento. Per consumatore ed esercenti una beffa che porterà scarsi risultati anche allo Stato. Occorrerebbe quello che non c'è, cioè un governo molto, molto solido, molto forte che fa delle riforme strutturali. Nel momento dell'IVA è evidente a tutti che non è una riforma strutturale. Alla fine tutto questo gioco non comporterà forse neppure l'aumento del gettito per le casse dello Stato. Rischiamo di avere una riduzione del gettito a disposizione dello Stato e nello stesso tempo anche una riduzione dei consumi. Quindi peggio di così non poteva capitare. I rischi legati all'aumento dell'IVA ci sono anche per le cooperative sociali, per le quali la legge di stabilità adottata a fine 2012 prevederebbe una crescita dal 4 al 10%. Del tema si sta occupando una commissione parlamentare in cui sarà presentata un'interrogazione appunto per chiedere lo stop all'aumento, firmata anche dalla parlamentare riminese del PDM Appetitti. L'Appetitti ricorda che a Rimini solo il Consorzio Sociale Romagnolo conta una trentina di cooperative associate che danno lavoro a più di mille persone, di cui il 40% svantaggiate. Il 66% del fatturato della cooperazione sociale arriva dagli enti pubblici, il 34% dagli utenti e dalle loro famiglie. L'aggravio si ripartirebbe per il 70% sulle pubbliche amministrazioni e per il 30% su chi fruisce dei servizi, spiega l'Appetitti. Il rischio è di assistere a riduzioni di posti nei nidi e nelle materne, di posti per anziani nelle RSA, ma anche tagli all'assistenza per disabili e a quella domiciliare per i non autosufficienti. E a Rimini torna a far discutere la privatizzazione degli asili comunali Cerchio Magico e Bruco Verde, oggi gestiti dall'ASP Valloni e oggetto questa mattina di una seduta della quinta commissione consigliare. Nonostante l'emendamento votato in Consiglio a giugno che stralciava la questione dal bilancio, secondo i consiglieri Brunori, Pazzaglia e Galvani, promotori anche di una raccolta di firme per difendere la gestione pubblica degli asili in questione, l'intenzione della Giunta resterebbe comunque quella di privatizzarli a cooperative tramite l'ASP. A discapito ribadiscono delle lavoratrici e della continuità didattica. A difendere la qualità della gestione privata è invece Giuliana Moretti del PDL che propone di definire l'assegnazione dei contributi da parte del Comune tramite indagini di customer satisfaction uguali per le strutture pubbliche e quelle private. Per la prima volta in questo 2013 l'aeroporto di Rimini migliora i numeri dello scorso anno. È accaduto nel mese di agosto quando i voli internazionali sono tornati a crescere. Il bilancio complessivo dei passeggeri resta comunque in forte calo. Nel mese di agosto l'aeroporto Fellini ha fatto segnare il primo segno più dell'anno. Lo si legge secondo i dati pubblicati da ASSO Aeroporti alla voce passeggeri internazionali che hanno toccato quota 86.233, più 4,6%. Una crescita legata agli arrivi dalla Russia visto che i passeggeri comunitari calano del 33%. In totale nel mese di agosto i passeggeri transitati dal Fellini sono stati 88.830, meno 9%, e i movimenti sono stati 982, meno 16,3%. Pressoché azzerati invece i collegamenti nazionali, meno 92,8%. Nei primi otto mesi del 2013 i passeggeri dello scallo riminese hanno raggiunto quota 408.194, il 31% in meno del 2012, in linea però con l'obiettivo contenuto nel piano industriale che prevede di arrivare a circa 580.000 a fine anno. Intanto, sabato scorso, il CDA di Aeradria ha ufficializzato i nuovi vertici. Accanto al presidente Maurizio Tucci ci sarà nel ruolo di direttore generale Paolo Trapani, già direttore degli aeroporti di Genova e Torino. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere l'ammontare del suo compenso, 200.000 euro lordi. Tucci invece prenderà 52.000 euro. La prossima scadenza per la società di gestione del Fellini è il 23 ottobre, quando i creditori dello scalo dovranno dare il loro assenso o meno alla proposta di concordato. Le nostre notizie di tutto in 100 secondi. L'eurodeputato Andrea Zanoni, ecologista e animalista, ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea sul caso del delfinario di Rimini. Dopo la conferma del sequestro preventivo da parte del Tribunale del Riesame, il delfinario deve chiudere per sempre, ha detto Zanoni, che sarà a Rimini venerdì per una conferenza. Il coordinamento Basta del Finari, forte di una petizione di protesta di 8.000 firme, ha indetto una manifestazione a Rimini per sabato 19 ottobre. L'ARPA non ha registrato nessuno sforamento negli ultimi sette giorni e, sfruttando la facoltà concessa dall'Accordo regionale per la qualità dell'aria, con propria ordinanza, il Comune di Rimini ha revocato il blocco del traffico di giovedì, confermato invece il blocco previsto dall'accordo per la prima domenica del mese, dalle 8.30 alle 18.30. L'Indice dei prezzi al consumo, rilevato a settembre, registra un calo dell'1,3% rispetto ad agosto. Su base annua invece l'inflazione dell'1,6% rispetto allo stesso mese del 2012. Entrambi i dati superano quelli della media nazionale, 0,3% in agosto, mentre l'aumento su base annua è dello 0,9%, il livello più basso degli ultimi quattro anni. Un 33enne senegalese è stato arrestato dalla squadra mobile e intervenuta nel suo magazzino in zona Padulli per ricettazione continuata e violazione della legge sul diritto d'autore. Deteneva materiali di vario genere, contraffatto e destinato alla vendita abusiva sulle spiagge del litorale. Con la raccolta differenziata non si scherza, se ne è reso conto un cittadino che ieri sera alle 21.40 in via Sacramora a Viserba, per non aver gettato i rifiuti secondo i corretti criteri della differenziata, si è trovato di fronte prima una guardia ecologica, poi carabinieri. Ieri sera in via Adria Miramare la polizia è intervenuta su segnalazione di rumori sospetti intorno a un garage. Non erano ladri, ma un topo rimasto incastrato in un contenitore di vetro. Le sale cinematografiche locali investono in qualità. Il Cinema Tiberio di San Giuliano ha presentato la nuova stagione e il nuovo impianto di proiezione digitale Sony 4K e il rinnovato sistema audio Dolby 7.1, giovedì la festa di apertura, poi la rassegna del Cine Club Notorious, le domeniche al cinema per le famiglie, le grandi dirette dell'opera e del balletto e gli eventi del National Theatre di Londra. E a Riccione anche il Cine Palace presenta le novità, a partire anche in questo caso dal sistema 4K. Quest'anno abbiamo deciso di associare i più grandi teatri mondiali, non solo con la Royal Opera House, la Scala di Milano e l'Opera de Paris, ma quest'anno aggiungendo anche il Metropolitan de New York, che quindi di rinotevole importanza con dei contenuti di alta qualità. Ecco, si dice sempre la magia del cinema, qui diventa veramente magico, perché le distanze vengono annullate. Quali saranno le emozioni che si potranno vivere in diretta di ritmo? Beh, partiamo già la prossima settimana con l'Honegin, Ergen Onegin dal metropolitano di New York, per poi avere il picco diciamo il 7 di dicembre, con la prima della Scala, che quest'anno sarà dedicata a Verdi, in quanto è la Traviata, per poi proseguire fino a giugno inoltrato, quindi una stagione con traballetti e opere liriche di 20 avvenimenti, mi piace chiamarli così. Cambia notevolmente la visione, la qualità dell'immagine e del suono. Non dimentichiamo che l'aumento della qualità digitale si ripercuota anche sul suono, quindi aumentando anche quella di qualità. La possibilità di utilizzare sale cinematografiche per tutto quello che riguarda aspetti culturali, insomma, che vanno non tanto e non solo nella proiezione anche ricercata del cinema d'autore, ma dall'altra parte anche con opportunità che le nuove tecnologie, per la quale ringraziamo tutta la famiglia Giometti, ha messo a disposizione della nostra città, insomma. Siamo al calcio, Alessandro Gianni è il nuovo direttore generale del Rimini. La nomina gli è stata conferita nel CDA di ieri pomeriggio, inalterate le altre cariche, Biagio Amati resta presidente e il fratello Marco Vice, il CDA, si riunirà ogni lunedì. Nella trasmissione calcio.basket di ieri sera in replica, questa sera alle 22 su Icaro Sport, canale 211, è appunto intervenuto in diretta il vicepresidente della società biancorossa, Marco Amati. È stato un CDA normalissimo, come facciamo? Adesso abbiamo deciso che tutti i lunedì ci incontriamo per fare il punto della situazione, per tenerlo un pochettino più sotto controllo tutte le varie situazioni che si creano, quindi è stato un normalissimo CDA senza grosse novità. Non l'hanno nominata quindi presidente? Ma questo è il presidente, non è che ci sia stato nulla, non è cambiato nulla. In questi, diciamo così, con la squalifica, con l'inibizione che ha avuto Biagio per due mesi e poco più, è solo una questione di firme eventualmente su documenti della Lega. Io come vicepresidente ho già depositato in Lega la mia firma, già a suo tempo, quando abbiamo preso in mano la Rimini Calcio, quindi io espletterò eventualmente fra Tempore solo firme su documentazioni della Lega, dove Biagio oggi non può firmare. Tutto qua. Per il resto rimane tutto come era. E 9.000 euro di multa al Monza per i cori razzisti e gli ululati di una parte della tifoseria contro l'attaccante senegalese del Rimini, Amet Fall. Cori che domenica avevano costretto il direttore di gara a sospendere la partita del Brianteo per un paio di minuti. Cori offensivi erano stati diretti anche al portiere del Rimini, Scotti. Un turno di stop intanto al difensore biancorosso Riccardo Martinelli. Il suo fallo da rigore su Polenghi è stato considerato da ultimo uomo. Salterà il derby di domenica col Bellaria, derby che sarà diretto da Andrea Monreale di Roma. È tutto a seguire il meteo, vi ricordo che ci trovate anche sulle frequenze di Radio Icaro e sul sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.